carissimi amici di netto cazzurra e meteo brollo buona giornata a tutti anche se tanto buona non lo sarà affatto complice l'affondo perturbato atlantico che nelle prossime 48 ore veicolerà un paio di perturbazioni appunto atlantiche che scorreranno su un cuscino di aria molto fredda balcanica di origine artica che si è inserita negli ultimi due giorni quindi ci aspettano 48 ore di maltempo che naturalmente sarà più cospicuo più forte nelle zone centrali e meridionali italiane ma che non mancherà di dare effetti naturalmente anche su questo territorio gli effetti saranno sicuramente molta nuvolosità per buona parte del prossimo 48 ore accompagnata anche da piogge di modesta moderata entità anche sulla nostra zona ma naturalmente le regioni appunto più colpite sono quelle centrali ovviamente stante l'afflusso di aria fredda nei bassi strati e la costante pompaggio di aria più umida negli alti strati favoriranno anche delle nevicate in alcune zone pianeggianti specie via romagna del piemonte e lombardia naturalmente non certo sulle coste venete e friulane ma sicuramente tra i 200 e 400 metri almeno nella parte diciamo più fredda della giornata saranno in grado di dispensare nevicate di una certa consistenza quindi piogge che il nostro territorio saranno via via più graduali e più insistenti ma che non raggiungeranno poi una composità così elevata quindi una giornata veramente un po ostica oggi accompagnata anche da venti in quota che saranno di origine settentrionale quindi avremo anche della bora tesa durante la giornata stessa e poi un leggero miglioramento nel pomeriggio e domani nuova perturbazione su quella già esistente dove verrà coinvolto ancora una volta più il centro sud ma anche appunto le nostre zone saranno coinvolte a pioggia che nell'ordine di 10 15 mm di orso modo di pioggia le temperature non subiranno aumenti quindi tutto sommato una giornata specie quella di oggi con temperature tipicamente invernali tra i 2 e i 5 gradi di massima quindi veramente molto freddo guardando un pochino più in là notiamo che il sabato dovrebbe sicuramente migliorare stanti il cambio d'aria però attenzione perché sul finire del prossimo weekend quindi alla volta di domenica notte lunedì nuova perturbazione in transito con ulteriori piogge però con un clima decisamente più mite quindi più di stampo autunnale staremo a vedere quindi godiamoci questa giornata di pioggia ci sentiamo domani ciao a tutti